Weyla! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo raccontarvi un attimo, parlarvi della vittoria di Leclerc a Monza, perché a quanto pare non era poi così meritata, anche perché non aveva le gomme chissà quanto usurate, quindi si vedeva chiaramente dalla foto quelli che sono sulle gomme sono prevalentemente detriti di gomma usata recuperati durante il giro di rientro, le gomme sono coperte di quelli, quindi non sono chissà quanto usurate, no? Questo più o meno era il contenuto di un commento che ho letto su un post Facebook, ovviamente fatto da determinati personaggi che sanno sempre tutto più degli altri e probabilmente si sono fermati a vedere quelle anteriori perché in quelle posteriori non c'erano tanti detriti e si vedeva perfettamente lo stato di usura delle gomme. A proposito di questo, quindi, ho voluto farvi questo video per farvi vedere un paio di cose su delle vere gomme sleek, vedendo più o meno come si consumano. Come prima cosa prendiamo da qui dietro una gomma con uno stato di usura più o meno normale, quindi non una gomma distrutta, una gomma che è stata consumata in maniera chiaramente uniforme, ma soprattutto che non presenta particolari segni di graining o di blistering, niente di strano. Quello che potete chiaramente vedere è che l'usura sulla superficie della gomma è tutta uguale, lo vedete chiaramente anche dal colore. Semplicemente la gomma non è più scura in un punto piuttosto che nell'altro, ma ovviamente è uniforme. Qui abbiamo una gomma che presenta del graining, come vedete nello strato centrale e laterale la gomma è chiaramente più scura. Questa è una gomma usata da stupidi. Come vedete questa gomma qui chiaramente ha subito un'usura da scivolamento, da graining. Cosa succede? La gomma appunto scivola sull'asfalto, scivolando dei lembi di pneumatico si sollevano e si vanno a rincollare dietro. Ve ne sto staccando uno, vi sto staccando un pezzo di graining. Questo qui che vedete nella mia mano è un pezzetto di graining. Cosa succede? Che questi pezzettini di gomma, che ora buttiamo via, incollati sulla superficie si distaccano quando la gomma è soggetta a strisciamento, quindi sull'asfalto. Chiaramente la gomma, avendo deriva, questo vuol dire che se noi sterziamo tanto così, quindi la gomma è girata tanto così, ma il vero angolo di sterzata poi è questo. Quindi anche se la gomma è girata tanto così, procede strisciando leggermente sull'asfalto. Il contatto con l'asfalto è dato anche dai pezzi di graining che si distaccano e quindi fanno aumentare l'angolo di deriva perché fanno scivolare di più lo pneumatico. Il graining inoltre è molto difficile da andare a pulire e lo vediamo perché lo pneumatico nei punti in cui ha tanto graining risulta più scuro. Invece su questo pneumatico vediamo i pezzi lasciati sull'asfalto che sono stati raccolti alla fine di un giro di rientro. Alla fine di una gara si va nello sporco a raccogliere questi pezzetti perché dopo si viene pesati e questi pezzetti di gomma aumentano il peso e ti fanno stare un po' più tranquillo di essere al di sopra del minimo consentito. Se si è al di sotto si viene squalificati quindi il fatto di andare sullo sporco per raccogliere gomma è una cosa molto furba e soprattutto molto utile perché può far aumentare anche in maniera sensibile il peso della vettura e quindi permetterci di passare il peso e non essere squalificati. Abbiamo visto che in Formula 1 questa è una cosa che può succedere quindi chiaramente questa è una cosa molto utile. Se è vero che effettivamente le gomme anteriori di Leclerc sono molto coperte da detriti raccolti nel giro di rientro nelle gomme posteriori invece il graining si vede tanto e si vede benissimo. Parlo specialmente delle gomme anteriori di Leclerc dove il graining non era perfettamente uniforme ovviamente fa anche sì che quando tu vai a mettere l'impronta a terra quindi vai a caricare l'anteriore magari frenando quando andiamo a impostare la curva e quindi a inserire la sensazione di tenuta della vettura viene leggermente meno quindi chiaramente è più difficile capire dov'è il limite e è più difficile capire dove andare in appoggio quindi quando abbiamo raggiunto più o meno il limite possiamo andare in appoggio mantenendo quella forza laterale sulla gomma perché avendo una pressione sull'asfalto non perfettamente omogenea facciamo fatica a capire dov'è il limite dello pneumatico. Chiaramente sulle gomme posteriori i problemi li avvertiamo di più in trazione quindi in uscita da una curva quando andiamo a raccordarci correttilineo sentiamo più difficoltà nel capire qual è il limite di quanto possiamo accelerare quindi di quanto possiamo caricare il posteriore in uscita di curva senza farlo scivolare e quindi diventa molto più difficile mettere a terra la potenza della vettura essendo sicuri che la vettura non scivolerà innescando del sovrasterzo nel primo caso quindi parlando delle gomme anteriori diventa più un problema per il sottosterzo nel secondo diventa più un problema per il sovrasterzo in tutti i casi la macchina di Leclerc doveva essere pesantemente difficile da guidare perché chiaramente tutte queste cose messe insieme questi fenomeni messi insieme fanno sì che la macchina sia molto difficile da portare specialmente negli ultimi giri in cui Leclerc comunque stava facendo sempre gli stessi tempi questo ci fa capire che sicuramente ha fatto un capolavoro dal punto di vista di guida riuscendo a fare dei tempi pressoché uguali per un sacco di giri su delle gomme demolite chiaramente demolite si vede si vede non sono i pezzetti di gomma incollati sopra nel giro di rientro che ti fanno dire ah no sono pezzetti sopra ma le gomme sono perfette si vedono i fenomeni di usura delle gomme e sono fenomeni pesanti perché la gomma posteriore è chiaramente totalmente coperta da graining su tutta la superficie appunto è chiaro che quella gomma lì è una gomma su cui è difficilissimo guidare lui ci ha fatto dei giri tutti uguali sopra quella roba lì non so come abbia fatto ma questo rende soprattutto chiaro che la vittoria non è merito della McLaren che si è mangiata la strategia o cose del genere ma è tutto merito di Ferrari e Leclerc non togliamo i meriti a chi li ha perché in questo caso in particolare Leclerc ha dei grossi meriti riguardo la vittoria di Monza oltre a dirvi come sempre di seguirmi se il video vi è piaciuto e lasciarmi un like che per me è molto importante vi voglio dire anche che secondo me è molto grave la gestione dei piloti che sta avendo McLaren questo in realtà ha leggermente aiutato nella vittoria di Leclerc perché quando Piastri ha superato Norris ha fatto esattamente il contrario di quello che ci si sarebbe aspettati da lui nel senso che in Ungheria Norris gli ha lasciato la posizione cosa a cui io sono contrario specialmente in quella situazione Norris doveva fare la testa di il campione lasciarlo dietro sono davanti io tanti saluti invece non ha fatto questo e secondo me è stato veramente un comportamento sbagliato lasciargli la posizione alla fine se vuoi vincere vinci vai fino in fondo e se vuoi dimostrare che tu vuoi vincere il campionato quei punti sono più importanti per te che per lui se non lo fai chiaramente poi dipende tutto da quello che fa poi Piastri e Piastri a Monza ha dimostrato che a lui di aiutare Norris non gliene frega niente che lui se può passare davanti ti butta la macchina all'esterno ti fa un sorpasso da paura dopodiché ti fa andare anche largo sullo sporco tu trazioni male e ti passa anche Leclerc Leclerc sorpassando Norris ha avuto un grosso aiuto nel poi mettere effettivamente in pratica quella strategia sicuramente alla fine avrebbe avuto un distacco minore da Piastri e molto probabilmente Piastri l'avrebbe probabilmente raggiunto non sappiamo se l'avrebbe sorpassato perché non si vive con i se e con i ma ma soprattutto non si corre sui se e sui ma si corre sui fatti e i fatti sono che questa cosa è avvenuta e Leclerc ha vinto la gara ma sicuramente questo dimostra una pessima gestione dei piloti da parte di McLaren che ha dimostrato che prima fa una cosa poi l'altra poi un'altra ancora sempre diverse non in linea con le scelte che un team deve fare quando con uno dei due piloti ha effettivamente la possibilità di andarlo a vincere il mondiale piloti questo non vuole essere chiaramente un post GP questo è semplicemente un video che ho voluto fare perché ho visto che c'era un po di confusione riguardo questo argomento e ci tengo soprattutto a sottolineare questa cosa perché io non faccio i post GP non sono una cosa che attualmente mi attira quello che volevo fare con questo video era appunto dare una spiegazione che riguarda una cosa che ho visto non essere chiara perché mi dici che quelle non sono gomme particolarmente usurate non sai che cos'è una gomma slick non sai di cosa stai parlando e non conosci i fenomeni che ci sono su una gomma slick quindi probabilmente non hai seguito molto la formula 1 perché questi fenomeni vengono straspiegati durante le varie gare specialmente in quei circuiti in cui si forma tanto graining è il caso di Monza soprattutto in questa stagione ma perché l'asfalto era appena stato rifatto un asfalto poco gommato è verde come si vuol dire e è un asfalto su cui si scivola tanto perché non c'è gomma per terra e oltretutto appunto non essendoci gomma per terra e scivolando tanto è molto più facile che si crei il fenomeno del graining che si crea proprio per scivolamento dello pneumatico con questo il video è terminato e quindi vi invito a arrivederci al prossimo video e vi saluto ciao a tutti